Siamo molto fermi rispetto all'inizio della partita, sono fraseggi scontati. Cigarini per Giovinco che si è spostato in centro, al centro e guardate che cosa estrae dal suo cilindro la formica atomica. Si è spostato in mezzo, ha ricevuto palla, ha inquadrato la porta, sinistro all'incrocio, Italia in vantaggio. Si vedi poi quando diventi scontato, ti arriva un po' di febbre, pensi di essere malato ed eccolo qui. Guarda qua che cosa ha tirato fuori. Arriva il medico e si presenta, dice non vi preoccupate vi porto io fuori dai guai. Eh sì, questa spanna che merita Sebastian Giovinco alla sua terza realizzazione con la maglia della nazionale e questo è un grandissimo gol che arriva in un momento non facilissimo per i nostri ragazzi, dicevamo delle difficoltà, ma noi abbiamo fortunatamente in rosa giocatori che riescono a sbloccare proprio questo tipo di partita.